Mattia Palazzi ha riportato sui articoli candidati alla carica di sindaco la maggioranza assoluta dei voti vasti, cioè 16.546 voti vasti. Quindi, proclama eletto alla carica di sindaco del comune di Manco il signor Mattia Palazzi. Salve le definitive decisioni del Consiglio Comunale a termine dell'articolo 41,1 del decreto legislativo di 7 agosto, debita numero 266. Grazie.